Tre giorni dopo che ti ho mandato a fare in culo a te. Abolirà le auto blu. Ciao. Che cosa ha fatto? Imboscare, imboscare la forestale. Segna. Segna i dati retrodattati. Grazie, grazie, grazie. Ciao. Non si sente vecchio a fare il sindaco da 80 anni. Beh, veramente non sai bene le date, quindi non dire strozzate. 79 ce l'ho. Quando vai in pensione? Dopo tre giorni? Tre giorni in culo. Dopo che ti ho mandato a fare in culo a te. Abolirà le auto blu. L'auto blu l'ho già cambiato, ho preso quella grigio metallizzata, 2 mila di cilindrata e anche ibrida. Così è... Sindaco, un posto per mio figlio. Che cosa ha fatto il tuo figlio? Niente. Non lo metto. Va bene, forestale, forestale. Grazie, grazie. Scrivi. Non si sente vecchio a fare il sindaco da 80 anni? Informati bene, 79 ce l'ho. Quando fai di andare in pensione? Tre giorni dopo. Tre giorni dopo cosa? Dopo che ti ho mandato a fare in culo. Signor sindaco, abolirà le auto blu? Già abolita, questa grigio metallizzata. Quando pensa di andare in pensione? Tre giorni dopo. Tre giorni dopo cosa? Che tu vai a fare in culo. Ciao. Ciao.